Già da Vescovo di Buenos Aires avvertivo il senso di orfanezza che vivono oggi i ragazzi e spesso domandavo ai papà se giocavano con i loro figli, se avevano il coraggio e l'amore di perdere tempo con i figli. E la risposta era brutta, la maggioranza dei casi, ma non posso perché tanto lavoro e il padre era assente di quel figliol che cresceva e non giocava con lui, non perdeva tempo con lui. Grazie Grazie Grazie